Ciao, bentornati, ho la lista, i 10 film preferiti da Quentin Tarantino per il 2013 e li saprete dopo il video. Tu non mi lasci altra scelta, io ti ho sferso con la mia mantegna, ritieni te, hai svergoniato, spero di sopravvivere, oh ce l'ho fatta. Come ogni anno The Quentin Tarantino Archives, portale devoto al regista americano, pubblica la top 10 dei migliori film più amati dallo stesso Quentin. Ed ecco la lista. E voi cosa ne pensate? Tarantino ha promesso una versione aggiornata della lista nei prossimi mesi. Nel frattempo voi fateci sapere la vostra personale classifica commentando qui sotto. E per oggi è tutto, potete anche seguirci su Twitter at FilmisNow. Ciao, alla prossima.